Ma ora tan 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 Ogni gamer che si rispetti ha sicuramente la sua postazione da gaming In questo video andremo proprio a vedere la mia E' aggiornata con un paio di cose che sicuramente non avete visto dall'ultima volta che ho fatto un video del genere E siccome in tantissimi video mi chiedete proprio voi Ma qual è il tuo pc? Ma qual è il tuo monitor? Ma bla 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 In questo video troverete tutte le risposte che cercate e tutti i link in descrizione Quindi buona visione Chiaramente direi di partire dalla porta che ha un contratto che ho fatto con una mia amica Ma non posso avvicinarmi troppo perché si legge il nome Qua vediamo due sgabelli da gaming su cui faccio salire tutti gli ospiti che insomma vengono a casa mia Zaino della palestra, letto a una piazza e mezzo gigante per... Con le tipe Poi questo fighissimo pinguino che ho da quando ho due anni e la bandiera moldava E voi mi dite ma perché hai sempre la bandiera rumena dietro i tuoi video bla 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 di tanto in andandosi vede Non è rumena, è moldava perché io sono moldavo ben svegliati Dopodiché abbiamo tutti i led che circondano diciamo il mio soffitto E che possono chiaramente cambiare colore ma io li tengo di questo colore qua Perché a me piace veramente veramente tanto L'azzurro secondo me ci sta perfettamente con questa stanza Che comunque come vedete ha varie tonalità di blu ma questo ci vediamo dopo E boh ci sta veramente veramente tanto Poi ho questo mega armadio insieme alla sedia che wow è blu Ne ho anche un arancione che però è di là nella stanza di mia madre e la usa lei nella sua postazione da gaming Lì tengo tutti i miei vestiti, le mutande eccetera, lì le felpe, i pantaloni, lì le giacche, le camice e qui è mia madre ci tiene le robe Però questo è proprio ciò di cui io vado più fiero in assoluto Partiamo da lì abbiamo un sacco di cappelli super fighi Dalle corone, da quello di compleanno, le maschere, il cappello da drago, il cappello delle MSI eccetera Qua abbiamo un sacco di tastiere, cuffie della Razer, mouse, tutte robe in scatola, in scatolate messe lì E poi la mia parte preferita, tutti i miei libri Perché non so se lo sapete io amo leggere raga Quindi ho ben 4 scaffali di libri che mi sono comprato, sono veramente fantastici Ogni giorno leggo per un'oretta e mezzo E sì, l'avete proprio notato il cappellino da 50 centesimi Che io tengo sopra questa macchinetta della Canon Utilizzata appunto per di tanto in tanto fare qualche video Insieme a questo tre piedi super figo E poi il cestino perché bisogna sempre avere un cestino Chiaramente questa sedia non la posso tanto utilizzare perché vai un po' in contrasto col green screen E in ogni caso la sedia che uso di più ultimamente è questa E se devo dirvi la verità tra le due marche Per certe cose preferisco questa Però il cuscino di queste qua è mille volte meglio di questo Perché questo mi si è rotto, il cuscino di questa sedia mi si è rotto Cioè tipo si è staccato questo pezzo qua da qua Quindi no buono Questa è la vista che ho da casa mia Quindi vabbè una bella vista insomma E questo è il mio super green screen Che devo dirvi la verità è veramente veramente fighissimo È il green screen dell'elgato Lo consiglio assolutamente a tutti coloro che volessero avere un green screen Perché io non penso che esista green screen più comodo di questo Perché voi lo prendete Potete mettergli via le gambe e tirarle fuori Lo aprite Tirate su il green screen Fatto E ora lui sta in piedi E se non lo volete così alto potete anche abbassarlo Guardate Lo volete così E lo tenete così Ed è veramente veramente fighissimo Io lo consiglio assolutamente a tutti Perché veramente ci sta Ma ora No scherzavo Andiamo a vedere le varie scatole che ho qua Allora in questo reparto ho deciso di posizionare tutte le scatole Riguardanti vari oggetti che io magari ho Sia nel mio pc che fuori Perché non potevo metterci robe più pesanti Quindi ho detto vabbè mettiamo le scatole vuote Infatti come vedete ci sono varie cose Tra cui la tastiera La tastiera Corsair Rapid Fire Che dopo vi faccio vedere E varie cose Tipo la mia scheda video Che è una 1080 Ti GeForce Gaming Geeks Trio bla bla Le varie scatole Insomma più quello che mi ha regalato mia nonna Che a me piace tantissimo Qua le varie cuffie che ho avuto in vita mia Tipo le Glary Le Turtle Beach Peaks 22 Che sono vecchissime Io ero in terza media Quando erano uscite queste cuffie Che erano spaziali Adesso direi che fanno schifo Queste Queste sono le mie cuffie attuali Le HyperX Cloud 2 Qua abbiamo i vari Passi Youtubers Quindi quello del Gamesfig 2018 Quello del Gamesfig 2019 E poi quello anche di Luca Che è questo Ed è le mie foto super fighissime Soprattutto questa Sono un figo da paura Questa dove ho il culetto di fuori E questa dove sono con un sacco di Youtubers Vediamo chi riesce a riconoscerli tutti Uno è parecchio difficile E parlo proprio di lui Lo vedete? Lui È proprio difficile da capire chi sia Ma ora andiamo alla tanto attesa Posizione Da gaming Allora Acqua perché bisogna sempre bere Microfono Blue Yeti Dopo vi faccio vedere la tastiera Un monitor a 60 Hz Un monitor a 140 Hz Due Webcam Una per Youtube Una per Twitch Perché ho due Due OBS E poi comunque se voglio fare la doppia webcam Insomma Va sempre bene la doppia webcam Lampada Lampada Che veramente Che veramente Fanno una luce assurda Assurda E led tutti dietro alla scrivania E dentro il pc Perché sono led separati Diciamo Connessi poi A questa super multipresa Che ha tipo un sacco di prese Ah mi sono dimenticato di farvi vedere Un quadro che mi ha fatto una mia amica Che è tipo una galassia Perché il mio canale è come questa galassia La galassia siccome è sempre L'universo è sempre in espansione Anche il mio canale è sempre in espansione Quindi grazie per aver fatto questo bellissimo quadro Che apprezzo Perché ha anche i miei colori C'ha l'arancione che è il mio colore preferito Poi abbiamo la targhetta dei 100k di Youtube Più la cosa Il foglio con scritto Complimenti Sei bravissimo Qui E poi abbiamo la mia lavagnetta La mia lavagnetta Siccome mi si è scaricata la penna Non riesco più a scrivere qua Quindi devo comprarmi un'altra penna Appena ce l'avrò Poi qua abbiamo Un bellissimo foglio Che mostrava quanti scritti avevo nel 2016 Vedete le varie date I vari scritti Quanti video ho fatto Nuovi scritti Le visual Cioè veramente Questo è un pezzo di storia Questo è un habit tracker Ma è inutile che vi spieghi cos'è Lunga storia Vabbè Comunque stavo parlando del mio pc Allora intanto Partiamo dallo stream deck Lo stream deck è tipo un telecomando per la tv Lo stream deck è tipo un telecomando per il computer Tu premi le varie robe Tipo se devo andare su un sito Premo su Chrome E da qui posso Posso diciamo decidere bene Voglio andare su Telegram Su Youtube Su Amazon E così via Oppure Oppure tipo posso fare le soundboard Tipo questo 118 Oppure Siamo ritornati Volga il royal Cioè capito Quindi da questo Posso regolare un sacco di cose Tantissima gente mi chiede Ma come fai a fare le soundboard Beh le faccio da qui Chiaramente E insomma Qua Questo lo imposti completamente Da zero Tu puoi metterci Qualsiasi cosa E io chiaramente Ci ho messo le cose che uso più spesso Che mi servono più spesso Il computer Il computer è inutile che vi elenchi tutti i componenti I milioni di componenti che c'ha Perché veramente non avrebbe senso Trovate tutti i componenti in descrizione Della scheda madre Della scheda video È un computer che ho assemblato con un mio amico su Amazon I led li ho messi io all'interno per tutto il perimetro E dentro è parecchio pulito e molto figo Anche se in realtà dovrei pulirlo ancora di più Non ho scelto il raffreddamento a liquido Quello diciamo solito Quello con i pannelloni giganti Perché sarebbe costato di più Ma molto di più E non avrebbe avuto senso Perché comunque Ogni volta che dovevo cambiare il liquido Era tempo perso E soldi persi Qualcuno di voi potrebbe dirmi Eh ma il computer è più figo Con il raffreddamento a liquido Ok Cioè con quel raffreddamento a liquido Ok Sono d'accordo Potete fare quello che volete voi Il mio pc Che si chiama Morgana Lo organizzo come voglio io E tra l'altro A me piace così Anche perché questo comunque è raffreddamento a liquido Con sei ventole Tre sopra e tre sotto Tra l'altro ha un sacco di USB Però solo queste due vanno Perché queste due non le ho potute far andare Per far andare invece le ventole a led Perché chiaramente avendo un sacco di ventole a led Ne ho Due Quattro Cinque Sei Sette Otto Quindi capite che otto ventole a led Non sono poche E siccome non avevo USB Ho dovuto comprare un USB hub Per diciamo Collegare più hub Al mio computer Infatti sono già piene Quindi non basta neanche più Cioè Se dovessi mettere altre cose Ho solo due slot Questo Vabbè questa chiavetta la posso togliere Ho solo questi due slot Chiaramente io devo essere pronto a tutto Quindi chiaramente Ho un cavo apposta Per collegare il mio telefono Che è un OnePlus 6 Ma Siccome ho delle cuffie bluetooth Ho anche questo cavo qua Che ha un vecchio caricatore Un USB Non Type-C Di conseguenza Se devo caricare le cuffie Ho comunque i telefoni Di miei amici Che sono vecchi Allora uso questo caricatore qua Pronto all'uso E poi ho questo coso qui Che è molto utile Per posizionare il telefono Quando Devo fare varie cose L'ho comprato Costa pochissimo Le mie casse Ne vedete Una qua L'altra è dietro il monitor Con il subwoofer qua Dove vedete un bel cable management Da paura Sono casse ottime Sono le Z3333 Della Logitech Ci stanno Non sono niente male Non sono neanche niente Di troppo spettacolare Però a me piacciono E per finire Questo coso qui Il mouse è quello Della Logitech E invece la tastiera Allora io usavo La Blademaster Pro Della Drevo Adesso sono tornato A usare una mia vecchia tastiera Perché mi mancavano Un po' gli switch veloci Che è la Corsair Rapid Fire K70 Che è anche quella di Ninja Tra l'altro E diciamo che io L'ho presa tantissimo tempo fa Perché il mio streamer preferito Ce l'aveva Il mio streamer preferito Si chiama Stormentv Di conseguenza Ho preso la sua tastiera E mi ci trovavo benissimo Mi ci trovo benissimo Semplicemente Siccome ho tante tastiere A volte ho voglia di cambiare Quindi Prendo e uso altre E chiaramente Delle onorificenze bonus Al tasto Enter Che prendo a pugni Ma soprattutto Al mio compagno d'estate Klim Che i più veterani di voi Conosceranno Se lo conoscete Beh Scrivetelo nei commenti Il totale Di questa posizione Incluso di sedie da gaming Casse Bla 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 È di circa 6.000 euro Incredibile E